che sa quando e come prendersi le sue responsabilità non mette però il primo, c'è però il libero supplementario arriva sul rimbalzo Pablone e passa in vantaggio Bernalda incredibile, 83-82 non va il libero di Pablone ma sul rimbalzo si addormenta la quiescente difesa di Massafra e allora si giocherà tutto sull'ultimo portesso Santiago Paparella fino in fondo Birindelli vorrebbe buttarsi in mezzo e trova la tripla del controsorpasso di Massafra Birindelli, due secondi dalla fine incredibile, emozione Pablone Villare all'arco non va e passa Massafra passa Massafra Bernalda